Grazie a te, volevo ringraziare tutti voi che siete intervenuti, ricordarvi il nostro sito internet che è www.exciters.it e la nostra pagina facebook, se ci volete mandare foto, video, siamo contenti, che è Exciters Official. Detto questo, l'ultimo brano e speriamo di vederci in un'altra occasione. Grazie a tutti dagli Exciters, ciao! Grazie a tutti. 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 Grazie!